Buongiorno ragazzi, allora, video di saluti, io rimango via fino al 22 e poi al 23 ritorno, vi faccio sapere subito, anche perché poi la settimana dopo ci sono le ricariche ordinarie, mi raccomando invece il 15 sono quelle di metà mese, seguite la Elena che vi terrà comunque aggiornati, però se avete dei problemi io poi vi rimetto comunque sotto la mail, se avete delle questioni importanti che ci assitano anche nella spiegazione, scusate queste fottute pastiglie, non fatevi problemi, ascrivermi, io vi rispondo appena posso, perché comunque diciamo che un impegno va tenuto anche quando ci si rilassa, non è una cosa così complicata e lo dico anche a chi mi ha scritto stamattina di tenermi aggiornato se salta fuori ancora qualcosa, anche se secondo me, per come mi ha risposto nella seconda mail, se la cosa è un contratto di collaborazione, dubito che si arrivi a quel tipo di provvedimenti, proprio perché lì siamo in una zona, tanto per cambiare, regole non scritte bene, facilmente interpretabili, le hanno scritte bene in un modo, non le hanno scritte bene nell'altro, quindi l'interpretazione è possibile, in questo senso. Ho già preparato anche i video per far caricare a Jack, sperando che se ne ricordi, però i post dei quiz ve li caricherà, è un acchiarimento sui quiz, i punti bonus li prendono solo quelli che si vede che le azzeccano perché la sanno, chi copia le risposte, prende sì un punto, ma non prende i punti bonus, quindi per fare esempio di ieri, 4 vagina o 4, come l'ha scritto nella versione originale della formulazione Gianluca, i bonus li prendono tutti, quelli che poi mi ha scritto, se poi arriva qualcuno che dice, ah è 4 vagina e non sai cos'è, prende solo il punto perché la azzeccana è copione, più di quello non gli do, ecco, lo dico per il futuro, ecco, anzi anche per divertirsi, no, io faccio anche per farvi ridere un po', non prendete queste cose su se io, cioè le bottiglie di vino sono una cosa relativa. In merito a questo poi, oggi non ho trovato grandi notizie, grandi novità da dovervi comunicare con urgenza, a parte che comunque, detto questo, spero che quando tornerò la questione a segno a unico ponte sia veramente in avanti. Dubito che però in questo periodo la famosa commissione, anche se adesso anche forse venisse svegliato, avrà fatto passi in avanti per la riforma di RDC, che, cioè anche qui, non fatela diventare una tragedia greca, cioè sapete benissimo che la fase 2 è riformata e qui nel discorso sulle riforme non si tocca il provvedimento in sé, va comunque riorganizzato, lo sapete, quindi non fatevi venire il mal di stomaco quando siete ancora sani, ecco. Poi, ieri mi è capitato di vedere due video, uno, dopo ho detto, io non è che perché cazzo ho uno per un video, vuol dire che di Bordoni in merito alla questione malica, su cui io sono assolutamente d'accordo su tutto, perché il problema non è sta ragazza, il problema è l'etichetta, cioè questa qui ha sfruttato l'appartenenza alla minoranza per fare due raccolte fondi, beh, tirare su soldi e poi ci ha fatto quel car... tra l'altro non ha preso un ciò, ha preso un bulldog, ma almeno non ha preso un carlino, perché se no passava da una pantegana con la scogliosi a una scatola da scarpe che ha i polmoni dove gli altri cani hanno le mandibole. Ha preso un bulldog, cari simpaticissimo. Sbava più di un novantenne senza dentiera, però... Non fate per piacere, non dite, sono due queste battute... Si può scherzare un po' nella vita, o siamo arrivati al punto in cui qualsiasi cosa non farà. Bisogna stare attenti a chi ci si riva. Il problema è la costruzione che ne ha fatto su, siccome appartiene da determinata categoria, allora è automaticamente buona. No, questa, se fatti i cazzi suoi, ha fregato tutti, soprattutto gli influencer che subito dietro, come i pecoroni, per loro interessi, hanno cavalcato la cosa e sostenuto la raccolta fondi, se fatti i suoi interessi, vi ha ciulato. La fessa non è lei che ha fatto quello che ha voluto. I fessi siete voi che gli avete dato dei soldi, ragionando su questa equazione, appartiene a una determinata categoria, quindi non può essere cattiva. Io cosa vi ho sempre detto, e continuo a ripetere, io me ne sbatto della persona che ho davanti dal punto di vista di una categorizzazione, di un incasellamento. Per me è una persona che può essere buona e cattiva, neanche in termini assoluti, sono poche le persone che sono così in termini assoluti, ma può essere così in determinati momenti. Però per me è una persona, cioè un essere umano con i suoi difetti sui pregi, punto. Bisognerebbe ragionare così, invece no, si devono andare a caselle. Questo è un metodo di ragionamento, è un po' il discorso che io ho fatto in merito al Pride. A me, del Pride, non avevo niente da contestare al Pride. Mi va benissimo e lo appoggio. Però, se tu contesti una determinata cosa, non puoi giustificare un'altra in nome della classica frase abbastanza ipocrita, è ma è controllata. Come se quella cosa che c'è in giro gliene fottesse qualcosa del controllo. No, non andava bene quella, non va bene neanche questa. Oppure mi dici che va bene quella, va bene anche questa, però mi va bene anche che facciano le processioni e che magari sfinino quei tizi appunto in camicia marroncina che così non si confondano con la cacca dei piccioni. Anzi, io ho una cacca di piccione bianca, quindi. Cioè, non puoi dire che quello va bene solo perché tu affoggi quell'idea. Perché è ipocrita. È ipocrita e non ci sono scappatoie, dialettiche, o retoriche su questo. È ipocrita. Fai due pesi e due misure. Quando fai due pesi e due misure sei un'ipocrita, appunto. E in merito a questo, noi generalmente scapita sulla rete poi, dove, come diceva Eco, ma come continuano a dimostrare pervicacemente la mamma dei fessi, peggio dei conigli, la Raggi fa una gaff. Che è una gaff. Non facciamola diventare più grossa di quello che è. Sì, certo, dire che sul Colosseo c'è il cupolone, ha detto lei, eh, potete ammirare il cupolone sul Colosseo, è una grandissima cacca. Ecco, ci siamo capiti. È una, come diceva la Fantozzi, però è una gaff. Cioè, per me, sinceramente, è più preoccupante che per Roma girino dei cosi pelosi con i baffi che squittiscono, quando non girano dei cosi più grossi con le zanne che non squittiscono, ma fanno altri versi, non so esattamente intendendo come si dice il verso del suino, grufolare, non lo so, grufolo, ma non è esattamente quello il verso, che ci sono alcune zone che sembra che siano passati gli americani a sganciare un po' di roba, quello per me è un problema vero, ma quello c'era anche i tempi di Veltroni, di Ruttelli, così. Non la gaff, beh, sì, ha fatto una gaff, non è la prima, non sarà l'ultima. Però, ma che arrivi in quinta statica, ce l'hai sempre con noi, ragazzi, perché adesso il bersaglio ce l'ho sul mio ex partito, ma ci devo andare con la fresa. Io non so se avete sentito, magari letto, perché poi ha girato anche nel TG, il caso di questa Iman Jane. Il cognome vero mi sembra, è un cognome marocchino, non voglio offendere, Buddha Yarala, mi dispiace, non lo so esattamente, perché è anche difficile se li trova l'avendo, proprio non lo usa. Ora, questa tizia, un anno fa, fa l'influencer, e parla di economia, parla, mini video di 30 secondi non è parlare di economia, e dire qualcosa. Un anno fa, non so se l'hanno invitata, se l'hanno invitata sono messi male, o ci si è imbucata, è cosa più probabile, perché la sua, il suo trend, il suo modo di agire, è quello, ma che non è nuovo, esisteva anche quando non esisteva internet, no? Ti fai fotografare col personaggio famoso, poi ci scrivi sopra una storia e fai sembrare che il personaggio famoso sia lì perché l'hai invitato tu, anche se in realtà tu ti sei solo fatta fotografare con quello, ti sei imbucata e ti fai fare la foto. Lo sto, si faceva, veramente presente all'inizio di Schindler List, no? Oscar Schindler che va a offrire, paga di qui, paga di là, e si, e balzica certi soggetti, perché ha un ritorno così, no? Dicono, questo conosce Tizio, conosce Caio, così esiste, esiste il mondo, ecco. Qui lei mette, ha messo la foto di Cottarelli, ha messo la foto di Gualtieri, ed è questo, sul Gutticchi, ero come un fabbro, ha messo la foto con il presidente della Illy, se occupasse di fare il caffè, magari quello, e ha messo la foto con Mattarella, uno dei rari momenti in cui, probabilmente, non stava facendo la pennichella. Però se uno legge sotto le stories, c'è il testo, dice, ma quasi che li abbia organizzati lei, non è vero, lei si imbucava, come ci sono quelli che si imbucano alle feste di matrimonio di Romagna, queste si imbucava per far vedere che aveva, e qui non lo so, se l'hanno invitato, si è imbucata alla Goldman Sachs. Ora voi sapete quanto io posso amare queste banche d'affare, che hanno praticamente portato il pianeta, il pianeta, a un rischio economico, di disastro economico, peggiore di quello del 29, fra i subprime, i derivati, i titoli tossici, i mutui erogati ad cazzo, un tanto erano coperti dalle assicurazioni, che dopo un po' quella americana sa più da che parte, girassi per pagare i danni, tutto questo bel bailame di guano, buttato su tutto il pianeta, che non stiamo pulendo ancora adesso, però, allora, per fare quello che hanno fatto, devono essere bravi, avete presente, no, DiCaprio in Wolf, scusatemi, Wolf Street, o mi sono inciappato anche io nella lingua, devi essere bravo, guardate quel film, vedete quanto è bravo, bravo DiCaprio, ma quanto era bravo anche chi ha interpretato, cioè a vendere sostanzialmente l'etame, dicendo che era cioccolata, e si è infilata lì, ha parlato, parla dei minuti, e questi qui, che l'ho detto, cioè questi, cioè erano come entrare in una vasca di squali, dopo essersi fatto un bagno, nel sangue di mucca, e gli hanno chiesto alcune cose, perché non conoscevo un termine tecnico, neanche a pagarlo, cioè non parlo di quello più comune, che si dice spread, così no, magari riferimenti a polmoni, collari, appunto prime, subprime, derivati, 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 tutte queste minchiate qua, io non sono un economista, ma qualcosina, devi impararlo per la storia, e lei ha detto che era lavorata da Big Hawk, Dago Spia, che cacchi suoi non se ne fa mai, ma anche giustamente, la tanata subito, non era lavorata, neanche da triennale, perché tutta questa, e poi ovviamente l'ha fatto il video, dicendo che era troppo impegnata, per potersi laureare, allora, visto il suo livello, e vista la velocità con cui l'hanno tanata, questi qui, secondo me, qui non siamo a livello di, mi mancano un paio di esami, qui siamo a livello di, mi mancano tutti gli esami, manco ho cominciato, comunque, perché, faccio riferimento, poi lo dirò anche per un'altra cosa, perché questa persona, era stata contattata da Gualtieri, per entrare nello star governativo, ora, voi sapete quante bastonate, abbiamo tirato alla Castelli, ma, la dimostrazione è palese, che non è che è una colpa solo di 5 stelle, in questo senso, i 5 stelle hanno agito così, ma Gualtieri non è un 5 stelle, è un PD, tu metti dentro una persona, di cui non hai la minima cognizione, di cui non hai un curriculum, di cui sai soltanto che fa mini storie di 30 secondi, e gli piace l'economia, la metti all'interno del Ministero dell'Economia, su queste basi, perché le basi sono queste, ha molta più logica la Castelli, che almeno la Trennale se l'è fatta, su queste basi, perché è brava a vendersi, e è un influencer, non lo so, è come se ad Arva, poi non lo messero come professore di storia, un tizio che dice, si so che più o meno, si è combattuta la battaglia di Waterloo, e c'erano gli inglesi, i tedeschi, e i francesi, mi sembra che mi erano vinto gli inglesi, su quella base, ti facciamo docente ordinario, cioè, oltre al fatto che non dovrebbe dire, te schemi approssiani, ma su quella base lì, è ovvio che ti tirano, ti tirano i mattoni, ti tirano dietro, su questa base, quel tiro, vuole mettere nel nuvolo, di importanza, ma stiamo scherzando, l'avessero fatto, i 5 stelle, dalla sinistra, da destra, vabbè, la destra è il suo cam, mi stai dando tu da mangiare, ma qui parlo della mia parte politica, noi avremmo cominciato a fargli un mazzo tanto, ma noi invitiamo questa, che non sa un cazzo, perché tecnicamente, non ha una vera preparazione, si sa solo vendere bene, comunicare bene, in un ruolo, in cui serve competenza, perché mi sembra che in termini di gestione dell'economia italiana, di disgrazie, se ne siano già abbastanza, in un paese, meno tollerante, degli errori dell'Italia, tipo l'Inghilterra, che ha buttato fuori, con un calcio in quel posto, il ministro della salute, non perché stava facendo lo zozzone, con la segretaria, ma perché non ha mantenuto le regole inglesi su una certa cosa, e comunque il paese lì, adesso Gualtieri non è, gli facevano scavalcare il muretto, senza sforzo, ma prima, quando c'era ancora Conte, però il problema vero è che noi, cioè, fai delle scelte basate su queste cose, non sulla qualità, la profondità, no, sul proprio, eh sì, ma è famosa, è conosciuta, allora mettiamola lì, ma tu non ci stai con la testa, stesso discorso, tra l'altro, che dovrebbe fare così, la Chienge, ex ministro, protetta dalla Turco, che è quella di quel posto, di cui avevo parlato, che era degno di Rosenberg, per non dire di peggio, che viene assunta come medico di base, non ci sarebbe nessun problema, il fatto è che lei è un oculista, un po' all'ospedale di Fantozzi, no? Sono ortopedico, e quindi totalmente digiuno della materia, ah, ci vogliono nove mesi per un parto, eh, vabbè, siamo messi bene, fatemi capire perché è arrivata a quel posto, perché se è arrivata a quel posto, per sempre quella filosofia della Turco, o per una filosofia, per, siccome è una manicata, allora la spingiamo, e la gente gira un po' i coglioni, perché magari scavalchi gente più brava di te, e qui non è un discorso di categorie, qui è un discorso di meriti, io me ne frego delle categorie, mi interessa il merito, se uno è più bravo, non mi interessa assolutamente, a quale categoria tu te lo vuoi incasellare, perché è un ragionamento del cacchio, voglio sapere che se uno è più bravo, deve andare avanti, perché mi sembra che in Italia, con questa filosofia, non so se vi sia bastato ancora il vaglonte, ecco, perché mi sembra che quello dovrebbe essere molto educativo, è ancora lì, l'altro motivo per questa genia, questa, Iman e la sua amica, Mapelli, adesso il nome non me lo ricordo, hanno fatto un cacchiare, sia Milano che Palermo, e, la loro gittarella a Palermo, in cui si sono lasciati andare, e anche qui, chiamiamo le cose col loro nome, perché se quelle cazzate lì, le avesse dette, i Salvini di turno, avremmo usato la parola con la R, senza D, sì, e senza ma, ha trattato i palermitani, come se non fossero italiani, dette realmente, col discorso che ha fatto a taxista, che è imbarazzante, come se a Palermo, non arrivano le radio nazionali, con il comportamento in albergo, in cui faceva le ordinazioni, in inglese, mezzo macchironi, con le scambio legs, sono le uova strapazzate, guarda che l'italiano lo capiscono, o con quella indecente battuta, fatta dalla sua amica, a una commessa, che in pratica viene presa in giro, perché guadagna troppo poco, ma chi cazzo ti credi di essere? perché se poi finisce la tua popolarità, perché finisce ragazzi, lo sapete, su quello ragione io trovi, questo non è un mondo che, ti garantisce qualcosa di permanente, devi saperti costruire qualcosa tu dopo, quando finisce tu, che cazzo sai fare? No, per saperlo, perché se quello che sai fare, è andare a prendere in giro, io, gente che si fa il mazzo, non è che sai fare molto, però sta gente, ha centinaia di migliaia di follower, che li ascoltano, come se fossero, no, delle, perché questo, sono state due merite, teste di minchia, no, le ascoltano come se fossero, i guru, i guru, cioè, li seguiamo perché sono dei guru, no, scusatemi, ma, se voglio scegliermi, cioè, qui siamo a livello di seguire, Dona Scimiento, quello che stava sempre con la, 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 business, ragazzi, smettiamola di vedere queste persone come statue intoccabili, perché non lo sono, non lo sono, perché questa poi ha fatto la, le scuse che ha messo dopo, non le ha fatte sinceramente, come non erano sinceri neanche le scuse della, della sorella di, di, di Courtois, che ci ha messo 16 ore a sapere che Spinazzola si era rotta, tende d'Achille, per 16 ore quel post ignobile è rimasto lì, ce lo sapevano tutti dopo un'ora, lei da ci ha messo, ce ne ha messo 16, cos'è, ha un, un delay nella connessione neurale, queste scuse le ha fatte per questi, perché ci perdeva dei soldi, ci perdeva dei soldi, perché lei era il suo collegato al 5, e poi mi sono accorta subito, te ne sei accorta subito, eri lì chiedevi subito scusa, non lo fai su, in video, giorni dopo che è successo, e quando hai cominciato a perdere soldi e iscritti, e quindi altri soldi, e scusi si fanno quando è il momento, no, quando fa comodo, tutto lì, ragazzi, questo qui è il video di saluti, scusatemi se è lunghino, ma erano cose che mi andavano a tirare fuori, dopo faccio il video del quiz, e poi se gli esco, forse non so se vi lo carico oggi, ho già pronto un video dedicato a un canale di audiolibri, che poi avviserò io, avviserà Jack, ma voglio sentire il suo parere su due film, prettamente Lovecraftiani, intanto vi saluto, vi abbraccio tutti, mi raccomando, anche se lo dico alla fine, poi ve lo ripeterò dopo, pollicione, iscrizione, campanella, e condivisione, ciao a tutti, vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene,